Nella giornata di ieri è stato rilasciato il primo trailer del Gladiatore 2 e nel corso delle ore che si sono succedute il web si è già espresso dicendo tutto e il contrario di quel tutto. Siccome questa è una mia diretta vi dico cosa ne penso cercando anche un po' di rispondere a diverse cose che ho sentito che ho letto non ho la presunzione di aver ragione ma la mia opinione debbo esprimere non quella degli altri ed è un trailer che mi ha entusiasmato dunque. Io non sono mai stato contrario all'idea del Gladiatore 2 o meglio quando pareva che volessero resuscitare massimo decimo meridio oddio oddio mi sembrava un po' una cosa da soppesare e infatti l'hanno soppesata e hanno cambiato strada. Quindi quando si è parlato di un sequel con protagonista lucio cresciuto che per un motivo o per un altro segue la stessa trafila di quello che pareva essere suo padre già un certo intrigo la regia di Ridley Scott piace tutti i suoi ultimi film mi sono piaciuti ci sono quelli più riusciti quelli meno riusciti ma io stavo per dire capisco sempre penso di capire sempre quello che vuole trasmettere quello che vuole raccontare i messaggi che le sue pellicole vorrebbero lanciare quindi per me se non è una garanzia poco ci manca poi man mano che i mesi passavano il cast si faceva molto importante molto interessante Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn sono nomi di peso potremmo dire che se hanno accettato forse hanno letto qualcosa che li ha convinti una sceneggiatura particolarmente brillante ma non è sempre questo il caso magari sono stati pagati profumatamente e quello basta però sono interpreti conosciuti e riconoscibili anche se lo star system è morto qui parlo di pura qualità recitativa interpretativa poi ci sono state le prime immagini molto belle forse un po' troppo patinate ma d'altro canto erano destinate a una rivista che generalmente ha quello stile nella sua proposta ma si potevano già percepire delle vibrazioni interessanti ed ecco il primo trailer io ho già anticipato la mia opinione è un trailer che personalmente mi ha fomentato ha preso l'asticella del mio hype e l'ha fatta salire di diversi livelli è un trailer che mi ha fatto venire voglia di vedere immediatamente il film sì, potevo attenderlo in precedenza ma adesso è un film che aspetto con trepidazione con molta trepidazione e ho rivisto il trailer con le due o tre volte perché mi mi trasmetteva delle ottime sensazioni anche qualche brividino in senso positivo ovviamente 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 è un teaser che dura tre minuti quindi fa la faccia del teaser se dovessi trovare un difetto l'ho subito trovato io avrei tagliato almeno 30 secondi perché sono arrivato a un certo punto che sì sì tutto molto bello però ho capito quello che mi vuoi dire ho capito eh sì sì il film è questo ci sono questi personaggi questo è l'abbozzo di trama ok va bene puoi chiudere non c'è bisogno di andare avanti andare avanti andare avanti andare avanti basta basta quindi io 30-40 secondi li avrei anche cassati perché appunto è un primo trailer ce ne sarà almeno un altro tieniti contieniti mi rendo anche conto che visto il costo dell'operazione sia necessario farlo farlo penetrare questo film nelle coscienze far capire a tutti che sta arrivando e che vale la pena di essere visto quindi se si sbrodoleranno un po' sono in grado di entrare nella loro formamentis però da spettatore qualche critica posso anche farla presente detto questo gli attori mi sembrano tutti carismatici tutti in parte come ha detto il mio amico Victor si ha un po' la sensazione che si tratti di un sequel vecchia scuola quindi più lungo più grosso e tutto intero abbiamo preso lo scheletro narrativo della prima pellicola lo riproponiamo con le dovute differenze ma se prima c'era la semplice battaglia con le bighe adesso c'è la battaglia navale cosa che tra l'altro facevano veramente nel Colosseo e mi sarebbe sempre piaciuto vederla quindi battagliona con tanto di squali c'è il rinoceronte ovviamente visto che sono passati gli anni a livello tecnologico e di impatto visivo la posta in gioco è più alta però io mi sono un po' ritrovato nel mood nelle atmosfere del primo film che soprattutto da noi in Italia è diventato un cult assoluto ma anche all'estero è ritenuto un film che ha fatto a suo modo la storia del cinema e questi film dall'impronta storica con queste grandi scenografie mi attirano sempre ma la fotografia la regia sembra tutto per quanto riguarda il livello tecnico ad altissimi livelli quindi grazie al montaggio grazie alla canzone tra poco ci arriviamo io ho terminato il trailer non stando più nella pelle ho veramente voglia di capire cosa ci vogliono raccontare per me a livello di confezione a livello prettamente estetico a livello di trailer perché poi questo stiamo valutando e nient'altro è un piatto ricco in cui voglio ficcarmi però devo anche guardare fuori dal mio orticello dove salto festante lanciando le margherite mi devo guardare un po' attorno e in effetti le opinioni sono un po' divise e spaccate io adesso non ho assolutamente l'ambizione di calarmi nei panni di avvocato difensore non ci guadagno niente e soprattutto come debbo sempre ricordare a me stesso ma lo ricordo anche a voi e l'ho già fatto è un trailer quindi parliamo di un filmato promozionale di tre minuti il film sarà un'altra cosa a me il trailer è piaciuto magari la pellicola sarà una ciofecchia inarrabile e non avrò la minima esitazione nel dirlo Ridley Scott non è mio amico non mi ha pagato non conosco nessuno degli attori coinvolti quindi dovesse essere una chiavica ma discuteremo della chiavica ma adesso abbiamo tutti a disposizione tre minuti di girato montato da qualche casa di produzione adibita al marketing con delle scelte musicali che sono state prese di sicuro non dal regista e dalla produzione ma da chi si occupa appunto del montaggio e della distribuzione di suddetto trailer e questo si può valutare e allora voglio solo rispondere a qualche qualche ritrosia in cui mi sono imbattuto la fedeltà storica questa è la prima ognuno approccia il cinema a suo modo certo che aspettarsi in generale nel 2024 la fedeltà storica assoluta da un film di qualsiasi tipo esso sia è davvero una cosa ingenua o meglio da chi film ne vede ben pochi poi non ho la presunzione di dire che il mio approccio sia più corretto di quello degli altri ma è una sorta di consiglio è un consiglio per farsi il sangue meno amaro per stare tranquilli per cercare di divertirsi con questa grande forma d'arte popolare i film non sono dei documentari io credo che le pellicole storicamente accurate nella storia del cinema si continuano letteralmente sulle dita di una mano perché nessuno ha la voglia la presunzione di ritrarre in modo fedele un'epoca storica qualcuno a volte sì è tendenzialmente lì che si casca è lì che si fanno le cadute più fragorose perché più grande l'ambizione più alta è la caduta in questo caso io credo che gli sceneggiatori Ridley Scott abbiano voglia di raccontare una bella una bella storia ma senza la S maiuscola un racconto di rivendicazione di vendetta di rivoluzione dal basso così come era il primo film che non voleva raccontare l'antica Roma al mondo voleva raccontare la storia assolutamente inventata di sana pianta di massimo decimo meridio che ammazzava un imperatore che non moriva di certo in quel modo nella storia dell'antica Roma quindi sì possiamo fare il giochino trova l'errore ma non penso ci porterà da qualche parte ci sono altre obiezioni il rinoceronte è una tamarrata e gli squali nel Colosseo mi verrebbe da fare spallucce io ho trovato tutto perfetto per ottenere la mia attenzione e per accattivare le simpatie del grande pubblico che non è quello che scrive su internet ma è quello che va al cinema due volte l'anno tre volte l'anno che intende il cinema come forma di svago di intrattenimento e se mi fai vedere delle battaglie che si preannunciano epiche spettacolari io credo che possa risultare immediatamente piacevole questo trailer del gladiatore credo possa far salivare questo tipo di utenza mi viene detto che il primo non era così forse ma questo film non l'abbiamo visto quindi ritorno ritorno alla premessa stiamo confrontando un trailer con un film io posso prendere il primo gladiatore posso selezionare tre minuti di scene montate in maniera precisa e rendervelo la più grande tamarrata che abbiate mai visto ci vuole poco una frase che qualsiasi generale romano avrebbe detto dopo essere diventato gladiatore mentre sta per affrontare una battaglia che potrebbe porre fine nella sua vita al mio segnale scatenate l'inferno chi non l'ha mai detto è proprio spontanea non è assolutamente una frase tamarra per far sì che possa diventare un tormentone quello che oggi definiamo meme no 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 eh cazzo lo dicevano un po' all'epoca al mio segnale scatenate l'inferno le bighe che si schiantano questi questi uomini dei muscoli guizzanti e che mi frega che non era nel copione l'hanno messo nel film veramente veramente allora io cioè dai io capisco che e poi vado avanti con la mia ringa in tribunale io capisco che il gladiatore 2 possa non stare simpatico però vi consiglio per la vostra linea d'attacco invece perché io sono schierato in posizione difensiva vi consiglio di trovare delle motivazioni pensate un po' meglio un po' più se vogliamo ragionate purbe studiate perché che significa che la frase è stata improvvisata l'hanno vista hanno detto perfetta e la mettiamo in questo film che voleva essere accuratamente storico no voleva essere un film asciutto un dramma shakespeariano no voleva essere una cazzo di tamarrata capace di piacere a tutti e così è stato mi spiace mi spiace dirvelo ma poi chi se ne frega ritorniamo a noi ritorniamo a noi il rinoceronte non va bene ok questione di gusto io non mi sono minimamente interrogato aspetta eh ma in quel periodo lì c'erano i rinoceronti a Roma oppure i dinosauri non me ne frega nulla sto guardando un film sto guardando un film la mia sospensione dell'incredulità non è venuta a me non mi rendo conto che magari quella di altri sarà stata buttata per terra e devastata e qui ovviamente c'è c'è il gusto soggettivo fatemi accendere il condizionatore intanto ma ci si può far poco eh io non ho visto niente che possa pregiudicare la mia godibilità altri sì vi invito a riguardare il primo film dove tra l'altro il rinoceronte avrebbe dovuto esserci anche per farvi capire la forma mentis c'è uno storyboard che si trova su internet Ridley Scott il rinoceronte lo voleva in questo primo film che ho scoperto oggi stamattina svegliandomi era molto asciutto no eh cadenzato eh dal sapore drammatico serioso e che mai si sarebbe permesso di proporre certi elementi e certe cose e poi c'è la scelta musicale la scelta musicale oddio questa canzone pop moderna che nulla c'entra con le atmosfere di Roma allora qua bisogna entrare nel merito spiegando alcune cose che magari non sono così scontate difficilmente quasi mai i trailer vengono montati dai registi da chi si è occupato del film vero e proprio lo dicevo prima questo video di tre minuti nel 99% delle probabilità dei casi è stato costruito da un'azienda una società che si occupa in modo specifico di marketing cinematografico vi dirò di più probabilmente chi ha selezionato queste immagini non ha visto il film nella sua interezza gli sono stati forniti 40 50 minuti di sequenze e il montatore ha dovuto scegliere questa va bene questa non va bene taglia i cuci e lo stesso vale per la scelta della canzone per me è una cosa banale magari per altri no ma anche qui nel 99% dei casi le canzoni le musiche quindi anche le musiche proprie della colonna sonora le melodie orchestrali nel 99% dei casi non sono presenti nel film si tratta di brani composti appositamente per i trailer volete un esempio storico passato alla leggenda la musica del trailer di Inception non è nel film ve lo garantisco quella fanfara così famosa non è nel film Inception era un brano scritto pensato strutturato per la campagna marketing e per i trailer quindi quegli accenni di musica orchestrale del trailer del gladiatore 2 molto probabilmente non saranno nel film perché la colonna sonora forse non esiste ancora ma soprattutto non ci sarà la canzone rappeggiante ok quella non ci sarà no church in the wild non ci sarà è stata utilizzata solo per il trailer e perché è stata scelta per il trailer boh possono esserci svariati i motivi io l'ho trovata fomentante io l'ho trovata cavolo già ero tutto sudaticcio se poi arriva la canzone in contrasto in netta contrapposizione con certo l'epoca storica cosa che non si fa mai non si gioca mai di contrasto nel cinema assolutamente no canzoni tranquille come sottofondo di scene molto concitate orrorifiche ci sono dei registi che hanno fatto del gioco tra musica e epoca storica il loro marchio di fabbrica Moulin Rouge vi cito un film che effettivamente è poco rilevante ma tralasciando questo c'è persino il testo della canzone lo so che non sappiamo l'inglese in Italia ma il testo della canzone è assolutamente attinente con la storia del gladiatore cos'è un re rispetto a una divinità si parla delle porte insanguinate del Colosseo non è una canzone presa a caso ha a che fare con l'ambientazione le suggestioni quindi chi conosce l'inglese la trova anche in tema attinente calzante poi magari non vi piace lo stile non vi piace il rap io non sono un amante del rap ma vi posso garantire che è una bellissima canzone molto famosa all'interno di quel circuito ma chi se ne frega no? dobbiamo valutare la sua efficacia in merito al trailer e può non essere piaciuta io lo capisco può non essere piaciuta io stesso a volte critico le musiche associate ad alcuni trailer l'ultimo esempio Formula 1 il film con Brad Pitt io We Will Rock You Day Queen l'ho trovata una scelta veramente facilona banale non mi è piaciuta per niente mi ha anche distratto quindi è legittimo che questa canzone possa essere distraente che possa sballottare lo spettatore fuori dal trailer e queste sono critiche che capisco benissimo le comprendo capisco meno chi si basa su questa peculiare scelta musicale per dire che allora tutto il trailer è disastroso e ragazzi arriva negli ultimi 30 secondi la canzone e il trailer dura tre minuti tre minuti dura tre minuti quindi volendo si può criticare l'ultimo segmento e ci sta ma non capisco chi prende questo elemento e allora fa tutto schifo e allora è tutto ridicolo oddio ma non c'entra niente oddio ma la mettono nel film e allora tutto il film è tamarro tutto il film vuole essere una baracconata tutto il film tutto il film il film abbiamo visto un trailer che può legittimo non essere piaciuto avere fornito suggestioni preoccupanti raggelanti eccessivamente tamarre va bene però conteniamoci conteniamoci io lo so che la discussione cinematografica viene fatta di pancia si parla di pancia per parlare di cose decisamente più alte e importanti come la politica figuriamoci un hobby un passatempo un intrattenimento chiedere pretendere di ragionare più di testa è un'utopia però ogni tanto facciamolo ogni tanto può essere ancora più divertente farlo rispetto alla reazione istintiva però lo so è un'utopia un miraggio ma eh cosa cosa si può fare a riguardo niente comunque questo era il trailer del gladiatore 2 non pensavo che mi sarei dilungato così tanto in questa filippica valuteremo anche i prossimi e poi valuteremo il film io inizio con un livello di entusiasmo molto alto magari si abbasserà magari questo gladiatore 2 sarà una tragedia in celluloide ma dovremo vedere il film per poterlo dire il film il film per poterlo dire Grazie a tutti